Siamo a Magliani Camerota, bella marina, una delle granicchie più buone d'Italia, ai ficchi del Cilento. Purtroppo chi non viene qui può solo vederla, noi possiamo assapolarla, vi consiglio di visitare il Cilento e la provincia da Mare. Sapori, paesaggi, storie, uniche a noi. Amici vi saluto, cambiamo la campagna tour continua, ciao!